L'Italia si candida per il progetto Einstein Telescope, un progetto di grande valenza scientifica mondiale che vede coinvolti diversi professori e ricercatori del Gran Sasso Science Institute che da anni sono impegnati in ricerche avanzate sulle onde gravitazionali. Il progetto ET prevede la costituzione di un rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione e l'annuncio della candidatura italiana è stato dato direttamente dal premier Giorgia Meloni che ha proposto il paese come serie del progetto in una località in Sardegna vicino Nuoro. Il Gran Sasso Science Institute da tempo è coinvolto nella collaborazione scientifica internazionale del progetto tanto che l'astrofisica del GSSA e Marika Branchesi che è anche membro del comitato tecnico voluto dal ministero dell'università della ricerca è presente a Roma alla conferenza di presentazione ET permetterà di osservare le onde gravitazionali provenienti dall'universo più profondo. La candidatura pone l'Italia e l'Europa al centro dell'osservazione dell'universo per i prossimi decenni. Nomi illustri fanno parte del comitato e tanti del Gran Sasso Science Institute. Il progetto prevede anche risvolti importanti nell'industria perché le nuove tecnologie da sviluppare saranno un incubatrice per aziende che operano in questo campo. C'è la collaborazione scientifica, una collaborazione estesa di 1.400 ricercatori che coinvolgono varie comunità europea e anche si sta allargando anche al di fuori dell'Europa. All'interno di questa collaborazione Gran Sasso Science Institute ha un'unità di scientifica di circa 15 persone ma ha dei ruoli di molta responsabilità con i nostri professori, la professoressa Branchesi, il professor Arms, il professor Coccia e il professor Ferroni che fa parte del comitato coordinatore, direttivo, istituito dal MUR per sostenere la candidatura italiana ad ospitare l'infrastruttura. La collaborazione scientifica esiste a prescindere da dove sarà poi fatta fisicamente l'infrastruttura. Certo, noi tutti come italiani sosteniamo e promuoviamo la candidatura italiana ma dal punto di vista scientifico la rilevanza è che noi come istituto siamo fortemente rappresentati e siamo un elemento importante di tutta la collaborazione europea. Grazie. 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 Grazie.